sia lodato gesù cari figli miei cari figli in questo tempo desidero particolarmente invitarvi a decidervi per dio mettete dio nella vostra vita e nelle vostre famiglie al primo posto lasciate la transitorietà di questo mondo il materialismo tutto ciò che vi allontana da mio figlio decidetevi saldamente vivete i miei messaggi desidero continuare a guidarvi guidarvi a mio figlio affinché in lui troviate la pace vera e autentica e l'amore grazie cari figli per aver anche oggi risposto alla mia chiamata andate in pace cari figli miei ringraziamo la madonna per questo splendido messaggio e ci affidiamo a lei per il cammino verso il suo gesù il nostro gesù io vi saluto e vi abbraccio la vostra piccola battita del cuore